Cosa succede quando la tua carriera viene messa in pausa non per una tua scelta, ma per le dinamiche familiari? E se ti dicessi che tutto ruota intorno a un famoso nome del panorama musicale italiano? Rimanete con noi per scoprire i dettagli di questa vicenda inedita. Nel cuore dello spettacolo italiano, i riflettori sono spesso crudeli quanto affascinanti. Oggi, vi portiamo una storia che mescola musica, fama e legami familiari in un intreccio degno di una sceneggiatura. Stiamo parlando di Yari Carrisi, figlio delle icone Albano e Romina Power, e di un episodio poco conosciuto che ha segnato profondamente la sua carriera. Prima di immergerci in questa storia avvincente, se non l'avete ancora fatto, cliccate sul pulsante di iscrizione e attivate le notifiche. Non vorrete perdervi le nostre esclusive, vero? Yari Carrisi, durante un'intervista su Rai 1 con Eleonora Daniele, ha aperto il suo cuore raccontando degli ostacoli incontrati nella sua carriera musicale. Nonostante l'amore incondizionato per la sua famiglia, Yari ha dovuto affrontare le complesse dinamiche di essere il figlio di. Nato in una delle famiglie più osservate d'Italia, Yari ha rivelato come una particolare situazione con Loredana Lecciso, compagna di suo padre, abbia involontariamente causato il blocco della pubblicazione di un suo album. Questo evento non solo ha influenzato la sua traiettoria professionale, ma ha anche spinto Yari a prendere una pausa dalla musica, durante la quale ha viaggiato fino in India per ritrovare se stesso e la sua passione. Volevo solo fare musica, ma ogni mia mossa veniva esaminata e, a volte, ostacolata dalla stampa e dalle opinioni pubbliche legate alla mia famiglia, ha confessato Yari durante l'intervista. Che impatto credete che il background familiare abbia sulla carriera di un artista? La fama della famiglia aiuta o ostacola più spesso? Condividete la vostra opinione nei commenti. Se trovate affascinante il mondo dello spettacolo e volete supportare i contenuti che vi portano dietro le quinte, lasciate un like e iscrivetevi al canale per più storie come questa. Nonostante gli ostacoli e le sfide, Yari Carrisi non ha mai smesso di credere nel suo sogno e nella musica. Ora che conoscete la sua storia, la sua musica risuonerà diversamente nelle vostre orecchie.